Bene, benvenuti a tutti, io sono Fabrizio Croce, sono responsabile per il sud Europa di WatchGuard. WatchGuard, chi è? Innanzitutto focalizziamo sul nostro brand, è un'azienda che è nata nel 96 a Seattle, Stato di Washington, Stati Uniti e nell'arco di 16 anni è diventato uno dei maggiori player per quanto riguarda la sicurezza perimetrale. Abbiamo 5 uffici regionali, la presenza è in 15 nazioni, siamo più di 650 impiegati e lavoriamo in maniera indiretta, quindi lavoriamo tramite distributori che poi lavorano su dei value added reseller globali. WatchGuard ha dei volumi molto importanti, nel senso che avendo qualche milione di installazioni al momento nel mondo, questi dati statistici sotto che potete leggere sono assolutamente veritiere. WatchGuard in Italia è uno delle 5 uffici regionali, è a Parco dei Medici, in Italia abbiamo un team di 12 persone, l'ufficio di WatchGuard Italia gestisce, ovviamente l'Italia è parte del sud Europa, diamo diretto supporto tecnico locale in italiano, questa è una cosa molto importante, in orari italiani con del personale italiano che parla italiano. In Italia abbiamo circa 12 mila clienti, principalmente small, medium business e mid enterprise, 300 clienti nella pubblica amministrazione locale e come vendita, come diciamo, noi siamo assolutamente indiretti, lavoriamo con 600 var, diciamo quelli più attivi, dei quali 180 si sono certificati con il nostro programma di canale WatchGuard One. Siamo il primo vendor di security in Italia per il segmento delle PMI, questo è un dato estremamente importante che vi farà anche capire l'importanza di questo brand, soprattutto in Italia. Qual è la nostra mission? È dare senso alla cyber security, quindi introdurre una protezione intelligente, una protezione efficace contro tutte le più possibili minacce grazie ai vari motori di sicurezza integrati all'interno dei nostri apparati che lavorano in maniera concorrente. Un management semplificato, sappiamo che gestire la sicurezza non è semplice, c'è bisogno di dare agli utenti un'interfaccia di gestione la più possibile, granulare, semplice e facile da imparare anche per chi non ha una diretta esperienza. L'importante è dare anche una visione di quello che stia succedendo all'interno del network, avere dei apparati di sicurezza ma non avere una visione di quello che stia succedendo nel network è molto grave, quindi è importante dare integrati insieme agli apparati monitoraggio, reportistica, tutto gratuito e tutto integrato. Noi crediamo nel valore dell'UTM, quindi il valore di una soluzione di sicurezza che combini una verità di servizi indispensabili in una soluzione facile da installare e da gestire, quindi una piattaforma hardware al quale interno vi siano il più possibile servizi di sicurezza di alto livello, quindi avremo meno apparati, configurati solo la prima volta, gestiti centralmente e non dovremo palleggiarci fra diversi vendor a seconda del tipo di servizio che stiamo utilizzando. All'interno della nostra tecnologia abbiamo due livelli di servizio, i servizi di sicurezza fondamentali che sostanzialmente ce li hanno un po' tutti, quindi il classico IPS, il gateway antivirus, il web filtering, l'application control, il blocco dello spam e la reputazione degli indirizzi IP, con dei servizi di sicurezza integrati però con dei servizi di sicurezza avanzati propri di WatchCard, il blocco delle minacce persistenti avanzate, il blocco di tutte quelle che siano le minacce anche sull'endpoint, sempre le minacce avanzate non rilevabili dai normali antivirus, il blocco dei ransomware direttamente sull'endpoint per evitare che nella malagorata ipotesi vengono infettati possa subire comunque dei danni, la dot loss prevention, sistemi di mappatura delle reti molto importanti per quanto riguarda ora l'ambito dell'IoT, tutto quanto gestito, visibile e monitorabile con il nostro software che si chiama Dimension Command. Una piattaforma total security, quindi una singola piattaforma facile da acquistare, facile da installare, facile da gestire, con il management, reporting e analisi di rischio assolutamente integrati e gratuiti. La piattaforma può essere hardware, la piattaforma può essere anche una immagine software installabile sia in ambiente virtualizzato sia in cloud, in ambiente cloud. Ci sono due bundle, le macchine vengono vendute con due bundle, un bundle che si chiama Basic Security Suite che integra all'interno, come dice il nome, i servizi di sicurezza di base, quindi tutto quello che è necessario e sufficiente alla protezione di una rete dalle minacce conosciute. A questo si aggiunge invece il bundle Total Security che espande la Total Security nella direzione di andare a bloccare le minacce informatiche e gli attacchi di tipo avanzato che normalmente sfuggono ai normali sistemi di sicurezza. Importantissimo, WatcherGuard fornisce conformità al GDPR, ormai manca pochissimo alla sua partenza ufficiale, copriamo 16 dei 20 controlli critici secondo il Sunset Institute, proteggiamo quindi il perimetro della rete e rinforziamo quello che è l'infrastruttura di sicurezza di una rete in direzione appunto delle richieste del GDPR. Dove non siamo compliant? Non siamo compliant sulle raccomandazioni che ad esempio richiedono test di prenotazione, capacità di recupero dati che non è proprio di un firewall, risposta a gestione degli incidenti, questo è un problema di ticketing, e valutazione delle competenze di sicurezza e appropriata formazione, questa è una raccomandazione che riguarda più che altro la gestione. Ma come vedete tutto il resto è coperto con la tecnologia di WatchGuard. Altro importante punto, WatchGuard ha cambiato atteggiamento negli ultimi anni da un sistema, vorrei dire, un po' chiuso, un po' proprietario, si è aperto al mondo e ha creato il cosiddetto ecosistema. Quindi noi abbiamo delle partnership tramite delle API che forniamo a dei provider esterni, i quali possono integrare la nostra piattaforma nella loro soluzione e noi possiamo integrare la nostra soluzione nella loro piattaforma e ci sono ovviamente, come potete vedere, tantissimi vendor per quanto riguarda i più disparati ambiti per quanto riguarda l'information technology. Se volete approfondire, visto che questo numero di partner tecnologici cresce di giorno in giorno, potete andare sul sito watchguard.com slash techpartners. WatchGuard riceve costantemente dei riconoscimenti per quanto riguarda la sua tecnologia, siamo sempre al top per quanto riguarda la stampa, le prove, i test, i premi, siamo sicuramente uno dei vendor più conosciuti del mondo. E come clienti abbiamo dei clienti molto tenogenei, molto orizzontali, non abbiamo un ambiente verticale specifico perché siamo un prodotto che può garantire la sicurezza a qualunque ambito, che vai dall'elker piuttosto che ai trasporti, piuttosto che alle banche, le assicurazioni, l'industria e così via. Questo comporta il fatto appunto che abbiamo clienti molto diversi tra loro, piccoli, medi, grandi, abbiamo anche clienti molto importanti, siamo molto forti in quella che viene chiamata l'enterprise distribuito, quindi un'unica sede che deve gestire tante piccoline catene di negozi piuttosto che franchisi, piuttosto che supermercati e così via. Parliamo adesso un attimino della tecnologia, andiamo un attimino più in dettaglio. WatchGar, come vi ho accenato prima, ha 22 anni di innovazione nella network security, a partire dal 96 dove siamo stati primi a creare una security appliance, da l'idea del nostro fondatore che ha avuto questa idea di mettere in una macchina un sistema completo di firewall e proxy applicativi, fino ad arrivare al 2017 che è stato l'anno del lancio della protezione per l'inpoint con il sistema TDR e ora con il lancio dell'assess portal SSL Clientless. Innanzitutto, una piccola nota molto importante, soprattutto per chi ha più competenza tecnica, WatchGar offre sicurezza a livello 7, non a livello 4 come tutti gli altri vendor, perché usiamo la tecnologia di Transparent Application Proxy, non usiamo un semplice packet filtering. Cosa vuol dire? Vuol dire che col meccanismo di proxy, qualsiasi connessione in ingresso o in uscita è bloccata, analizzata da una specifica policy proxy, la quale può andare ad analizzare in dettaglio il protocollo, in grado quindi di andare a trovare anomalie che il normale packet filtering non blocca, ma in più proteggere anche da tutti quei tentativi di attacco che si basano sulla manipolazione dei pacchetti, in quanto è il firewall che si occupa del riassemblamento del pacchetto. Come lo facciamo? Innanzitutto lo facciamo partendo da un approccio di tipo stratificato, partendo dal basso, lavoriamo con delle piattaforme industrial standard, con le quali noi collaboriamo e sulla quale noi poi creiamo la nostra infrastruttura software. Innanzitutto la parte rossa è la nostra tecnologia proprietaria di gestione del traffico, che sono i proxy applicativi, sui quali poi si appoggiano i pillar gialli, che sono i vari servizi di sicurezza, i vari servizi di sicurezza OTM, antivirus, filtering, IPS, antispam e così via. Tutto gestito, visibile e con reportistica integrata, grazie alla piattaforma Dimension e ai sistemi di gestione centralizzata. Lavoriamo in collaborazione con altri vendor, i quali ci forniscono parte delle tecnologie che inseriamo nei nostri apparati. È un approccio alla sicurezza agnostico, nel senso che noi sappiamo di essere molto forti in certi ambiti, ma su quelli sui quali non ci sentiamo forti, preferiamo rivolgersi al best of breed del momento e acquisirne in OEM la tecnologia. Se dovessero esserci dei problemi o delle necessità, possiamo cambiare la tecnologia in pochissimo tempo. Questo ci permette un'estrema flessibilità. Le piattaforme industry standard, noi abbiamo degli accordi con Freescale per l'hardware sui prodotti da tavolo, Intel per i prodotti da REC, basandoci su processori i7 quad core con tecnologia Cray Creek e con VMware e Microsoft per le tecnologie di virtualizzazione. Il nostro management è un management multiplattaforma, per gli amanti ancora del, non vorrei dire vintage, però questo è il nostro sistema principale di gestione, che è il WatchGuard System Manager, un'applicazione Windows che funziona appunto su ambienti, Windows o diretto o virtuale, il quale permette in maniera offline di lavorare sulle macchine e di gestire anche più macchine in maniera contemporanea. Ora è anche stata introdotta l'interfaccia web, dove io mi collego direttamente al mio firewall e lavoro direttamente sul firewall. È una scelta di opportunità o di praticità usare una o l'altra piattaforma. Abbiamo introdotto ora anche l'Assess Portal, quindi la possibilità di collegarsi al firewall clientless in HTTPS via HTML5, viene attivata la protezione TLS con il supporto SAML o anche la gestione del single sign on e multi-factor authenticator, quindi Okta o altri. A questo punto posso essere autenticato e dentro nella mia rete e mi verrà proposto un portale di applicazioni che avrò preconfigurato. Quindi, detto in maniera più visiva, Assess Portal, Login e Password, mi comparino le applicazioni che il mio manager IT mi permette di utilizzare e di vedere, dopodiché la vado ad attivare, ad esempio in questo caso un RDP, e vado a lavorare in Remote Desktop, da remoto, tutto clientless, tutto criptato TLS e in maniera estremamente sicura. Servizi di sicurezza li vediamo adesso in due modalità. La prima modalità è la Basic Security. Come già vi dissi prima, i nostri servizi di sicurezza vengono forniti in due bundle, il bundle Basic e il bundle Total. Che cosa c'è dentro la Basic? Beh, innanzitutto, anche se non è un servizio di sicurezza, è il nostro supporto tecnico, H24, sette giorni su sette, con Advanced Replacement, direttamente un site dell'utente finale, in caso di guasto, entro i tempi di corriere. Quindi, appena viene rilasciato l'RMA, viene ricapitata una nuova macchina e si hanno 15 giorni di tempo per restituire, senza costi, quella guasta al nostro magazzino logistico. E i vari servizi di sicurezza. Ora questi sì, l'anti-spam, che è il nostro nome commerciale, spam blocker, antivirus e anti-spyware, intrusion prevention, l'UR filtering, che noi chiamiamo web blocker, l'application control, il network discovery, il reputation enabled defense, che noi chiamiamo red, e il sistema di reputazione degli indirizzi IP. Vediamoli velocemente, anche perché penso che tutti voi sappiate che cosa siano, ma ovviamente per rinfrescare un po' l'idea, il web filtering si basa sul motore di WebSense, su Triton, e tramite questo database, noi andiamo a mettere, a fare dei profili di categorie, fino a 150 categorie, e decidere quindi chi va a navigare dove, se sì o no, molto semplice, on-off. L'application control identifica, fino a centinaio di applicazioni, tramite la firma dei loro pacchetti, quindi non è le porte che aprono, o catturare delle parole, ma una reale firma, a quel punto, a seconda di come ho fatto le policy, posso limitare, bloccare delle applicazioni, permettere le applicazioni, solo in una data ora, una data ora, granularmente entrare nell'applicazione, e attivare o disattivare, delle funzionalità, esempio Facebook, posso abilitare il post, ma disabilitare il chat, detto così, giusto per spiegarlo. Lo spam filtering, si basa sul motore di Siren, che è lo stesso utilizzato da Gmail, è giusto per darvi anche un'idea di qualità, e sostanzialmente, va a fare una verifica, se l'email è ricevuta, è uno spam, dopodiché lo posso bloccare, piuttosto che mettere in quarantena, piuttosto che marchiare come bulk, e mettere in una junk directory. L'antivirus anti-spyware, usiamo il metodo nuovo, l'abbiamo cambiato, ora utilizziamo Bitdefender, ed è ovviamente un antivirus, quindi reagisce a tutte quelle che sono le minacce note, sia per quanto riguarda email, che navigazione, che i vari protocolli, FTP e così via, e quindi va a cercare eventuali minacce, rimuovere queste minacce dal traffico. L'ultimo è RED, Reputation Enabled Defense, che cosa è? È un sistema che si basa, un sistema WatchGar, che si basa sulla classificazione degli indirizzi IP pubblici, tra buoni e cattivi. Quindi, più un indirizzo IP pubblico, manda via spam, piuttosto che virus, piuttosto che, che qualsiasi tipo di malware, man mano il suo ponteggio cresce, e superata una certa soglia, posso decidere di non accettare più il traffico. Esiste un portale, che vi consiglio di andare a vedere, reputationauthority.org, il quale vi permette di dare la reputazione, di un indirizzo IP, di una URL, o di una email. Da dove prendiamo i dati? Li prendiamo sia dall'ambiente pubblico, sia dalle macchine WatchGar installate, in quanto tutte le macchine WatchGar, fanno da sensore su internet, e mandano alla reputationauthority gli indirizzi IP pubblici che stanno facendo del traffico malevole. Quindi, con Red, io posso decidere che certi IP pubblici sono pericolosi, e vado direttamente a bloccarli a livello di perimetro. Network Discovery è un sistema veramente interessante, lo vediamo qui rappresentato con la web interface, che mi permette di creare una mappatura della rete. Io l'ho fatto per demo su una rete piatta, quindi vedete solamente un unico ramo, in realtà, se fosse più articolata, avremo una rete più grafica, magari più carina da vedere, in compenso, capite il senso, va a verificare, a trovare tutti i dispositivi sulla rete, questi dispositivi me li enumera a seconda del tipo di sistema operativo installato, dopodiché, io posso andare sul singolo apparato a vedere che cos'è e che cosa sta facendo, quindi se sta facendo traffico, sta facendo traffico, ad esempio questo è il mio telefono cellulare, questa qua banalmente, molto in maniera molto stupida, è una smart tv, lui l'ha identificata e mi dice che ha il protocollo MIDI, ed è sulla mia rete, io in questa maniera posso anche trovare se qualcuno mi stia facendo qualche scherzetto installando sulla rete dei dispositivi non permessi. Passiamo ora alla Total Security, che cosa ha in più la Total Security? La Total Security ha in più dei servizi aggiuntivi, quelli che vedete in rosso, finalizzati al blocco delle minacce avanzate dove i normali sistemi di antivirus, IPS, non sono in grado di agire. Di cosa parliamo? Beh, le attuali soluzioni basate su firme falliscono a proteggere degli attacchi più avanzati perché reagiscono su minacce conosciute. Il giochino è quello di creare delle minacce sconosciute in maniera di bypassare gli antivirus. Tutti quelli che sono stati preda dei cosiddetti ransomware sanno benissimo di che sto parlando. Quindi, con il Basic Security io vado sostanzialmente a sovrappormi a quello che fa un normale antivirus IPS. Ma per coprire tutto il resto delle minacce ho bisogno della Total Security e dei nuovi servizi aggiuntivi. Il primo è la Data Rose Prevention è il più semplice sostanzialmente identifica nel traffico email o web delle parole chiave o delle informazioni che non voglio che escano dalla mia rete. Questo mi rende conforme per esempio al GDPR posso andare a estrarre quindi non so bloccare email dove dentro ci siano i ban codici fiscali piuttosto che informazioni riservate che non voglio che escano della rete. Andiamo adesso sui veri servizi di sicurezza. Il primo tra tutti è il connubio tra Total Security e PT e TDR. Con l'APT noi andiamo a bloccare tutte quelle che siano le minacce avanzate al perimetro. Con invece il TDR andiamo a bloccare le minacce direttamente sull'endpoint quindi se qualcosa avrebbe passato il perimetro ad esempio è stato iniettato una chiavettina usb o qualcosa al di fuori di quella che è la sicurezza perimetrale il TDR reagisce e mi può aiutare anche in quest'ambito. Vediamo l'APT blocker l'APT blocker come funziona? Identifica e sottopone tutti i file sospetti in una next generation sandbox nel cloud quindi tutto quello che transita dal firewall e l'antivirus ha detto che è lecito che è pulito non ci fidiamo e controlliamo se la next generation sandbox lo ha già visto se lo ha già visto ci ritorna solamente se no buono o cattivo se non lo ha visto lo mettiamo in pausa lo trasmettiamo alla sandbox e facciamo esplodere il codice nella sandbox è molto importante perché è una next generation sandbox che non è sensibile alle tecniche di evasione che vengono normalmente utilizzate per bypassare quelle sono le sandbox classiche normali quelle che potete anche prendere di pubblico dominio quindi lo scopo è far esplodere il codice in un ambiente protetto e analizzarne il comportamento comportamento che può essere vario come ad esempio il tentativo di collegarsi all'esterno per andare a contattare un server di command control piuttosto che manipolare i registri del processore piuttosto che manipolare i permessi di un file e così via con il tdr facciamo la stessa cosa ma a livello di endpoint ma qui sorge un problema non possiamo mettere una sandbox nell'endpoint nel computer se no diventa una sandbox e non fate nient'altro che fare la sandbox perché le risorse necessarie sono assolutamente molto importanti quindi usiamo una metodologia diversa usiamo una metodologia che si basa sull'analisi del comportamento dei processi e come ultima analisi ultimissima analisi abbiamo anche un motore che si chiama hrp host ransomware prevention nel quale blocca automaticamente il ransomware nel momento in cui si attiva quindi se malaguratamente un ransomware per qualche strano motivo bypassa tutte le sicurezze possibili e si attiva si accorge il tdr che sta criptando un file e viene immediatamente killato il processo vediamo come funziona innanzitutto noi abbiamo rappresentato da qua a sinistra una rete protetta dal perimetro con un nostro firebox e sui vari client viene installato l'host sensor del tdr quindi una piccolissima frazione di software che gira in background in maniera silente all'interno dei nostri pc in più attivo anche nel nostro firebox la pt blocker quindi il blocco delle minacce avanzate perimetrale da questo momento in poi nel cloud esiste un motore che si chiama thread sync il quale riceve dalla mia rete informazioni log eventi e analisi dalla sandbox di quello che sta succedendo nella mia rete sono obbligato ad avere un firewall watchguard no io posso benissimo installare gli host sensor anche in pc senza bisogno di avere tecnologia watchguard e faranno la stessa cosa manderanno informazione di log ed eventi alla thread sync sui vari processi che stanno girando all'interno delle macchine la thread sync poi ha una serie di informazioni che arrivano dal cloud piuttosto che informazioni dirette che arrivano da provider come last line e dall'enorme database che lui ha già e questa correlazione tra i vari eventi sia di rete che locali consente di dare una risposta immediata sia alla rete protetta da watchguard sia al singolo client sull'indice di pericolosità del processo attualmente attivo quindi il giochino qual è? è fare una classifica decidere a che livello della classifica devo cominciare a preoccuparmi più la classifica va verso il 10 più il processo che sta girando dentro la mia macchina è un processo pericoloso quindi potenzialmente fino al 7 può essere qualcosa di maligno ma viene lasciato ad esempio a un operatore andare a verificare cosa sta succedendo per gli attacchi tipo severo posso dire al TDR di agire in maniera autonoma e bloccare immediatamente il processo e mettere in quarantena l'eventuale file quindi il TDR ha un grandissimo pregio della sua parte che non hanno altri sistemi simili di altri vendor il potere della correlazione è in grado di prevenire rilevare rispondere in maniera attiva correla i processi attivi sulla macchina con quello che è il traffico di rete quindi è un sistema estremamente efficace estremamente importante abbiamo introdotto in questi giorni il DNS watch che si va ad aggiungere all'offerta della total security quindi per chi acquisterà la total security si troverà il DNS watch per chi c'è la java basta che aggiorni la feature key e si troverà il DNS watch il DNS watch sostanzialmente che cosa fa? risolve il DNS le mie chiamate DNS e verifica che il mio IP non sia stato incluso in un database e non sia incluso in un database degli attacchi di phishing e mi ritorna poi delle risposte visive all'interno del browser di chi sta navigando con informazioni riguardo quel particolare sito dove io posso anche personalizzarle in lingue italiane e così via quindi sostanzialmente il meccanismo dal punto di vista funzionale è molto semplice il client fa un DNS lockup l'IP viene intercettato dal firewall viene mandato alla nostra trade intelligence per vedere se è un IP pericoloso oppure no se corrisponde veramente a quella a quella url dopodiché nel caso di pericolo mi torna una risposta mi dice guarda che è un sito di phishing e le varie informazioni per autoproteggere bene finora abbiamo parlato di servizi di software e così via andiamo a vedere dal punto di vista dell'offering le nostre appliance abbiamo ovviamente due un'offerta di prodotti scalari si parte dal prodotto più piccolo che è il T15 i prodotti a tavolo T35 T55 T70 e poi dall'M200 in poi sono dei prodotti su REC qui stiamo parlando di hardware la cosa molto importante è che sono tutti uguali quindi lavorano tutti con lo stesso software tutto con lo stesso livello di di firmware posso addirittura spostare il file di configurazione da una macchina all'altra e continua tutto a funzionare come prima sulle macchine T da tavolo possono essere anche in versione wireless quindi integrano all'interno anche un access point abbiamo anche un offering uguale ma di prodotti virtuali e cloud che funzionano sia in ambiente virtuale sia in ambiente cloud che adesso li vedremo vi dicevo i prodotti da tavolo i prodotti da tavolo sono dei prodotti da tavolo molto importanti da subito io vi esorto a considerare molto più importante il cosiddetto throughput UTM rispetto al throughput firewall è come il discorso di usare una macchina sui rulli piuttosto che nella strada normale di tutti i giorni è vero ci sono vendor che hanno del firewall throughput altissimo ma poi scoprirete che una volta che vengono attivati i servizi ci sono delle perdite di performance allucinanti quindi voi dovete sempre tenere in considerazione l'UTM throughput ha mezzo giga di potenza per quanto riguarda il throughput con un milione e trecentomila sessioni su delle macchine a tavolo è una cosa direi interessante notevole macchine per il medio business partiamo con la macchina da tavolo più potente in questo momento sul mercato il T70 che ha una potenza ben di 1.1 gigabit al secondo sulle macchine da REC magari sull'M200 abbiamo meno potenza UTM ma abbiamo un numero di sessioni maggiori quindi la possibilità di gestire un numero di utenti maggiori e il T70 è la macchina al momento più potente per quanto riguarda per il PMI un 2.6 giga con 3.3 milioni di connessioni per quanto riguarda le macchine di livello più elevato mid business quindi anche un distribute enterprise quindi una macchina centrale che gestisce molte periferie l'offerta si può concentrare sulle macchine M470 570 e 670 la cui unica diversità sono le performance per finire sulle macchine di alto livello abbiamo clienti anche enterprise assolutamente sì grazie anche al fatto di avere delle macchine come il 4.6 e il 5.6 che arrivano a 8 o 11 gigabit al secondo addirittura al 5.6 11 gigabit con 12.7 milioni di connessioni contemporanee ripeto mi riconcentro e vi esorto a guardare le performance UTM perché sono le performance che c'entrano sono quelle importanti quando io vado a scegliere una macchina UTM altrimenti prenderei un bello switch la IR3 e fa la stessa cosa tutti i nostri vendor sono al di sotto di noi per quanto riguarda le performance UTM sia per quanto riguarda le macchine da tavolo di alto livello sia per quanto riguarda le macchine da REC quindi assolutamente considerate WatchGuard anche per questo motivo di alte performance con i servizi attivi vi dicevo che possiamo fornire le appliance anche in formato virtuale nell'ambito virtuale è un'immagine software che gira come una macchina virtuale aggiuntiva questo è molto importante perché collegandosi al virtual switch posso proteggere direttamente dall'interno il server e quindi il multitenancy ci sono quattro versioni software le quattro versioni differiscono unicamente dalle performance che vengono customizzate dal punto di vista di licenza small, medium, large e xlarge anche per quanto riguarda il cloud il cloud privato noi abbiamo al momento la possibilità di fornire il nostro firewall per due provider Microsoft Azure e l'Amazon Web Service quindi io vado a fare il deployment del firewall all'interno del mio cloud privato magari nella mia azienda metto un altro firewall WatchGuard faccio una bella rete in IPsec una bella connessione in IPsec e quindi sono tutto completamente protetto dalla mia rete fino all'interno del mio cloud privato anche qui quattro versioni small, medium, large e xlarge con deployment diretto in Azure oppure in AWS Secure Wireless perché no forniamo anche una soluzione disgiunta da quella parzialmente disgiunta da quella che è l'offerta di sicurezza del perimetrale WatchGuard con una famiglia di access point di alto livello di categoria enterprise i quali lavorano o in connessione con i nostri firewall oppure gestibili tramite il cloud al momento abbiamo cinque modelli 120, 320, 322 325 e 4 eventi da interno e da esterno il 322 è un prodotto da esterno abbiamo introdotto adesso il 325 che è il primo prodotto Wave 2 con la nuova generazione del wifi come vengono forniti i prodotti wifi? possono essere forniti o in modalità basic wifi quindi gestibile tramite un firewall watchguard non sono access point che vivono di vita propria devono essere gestiti o tramite un firewall watchguard oppure tramite il cloud tramite il cloud si può utilizzare o il bundle secure wifi cosa differiscono che il total wifi ha in più tutta la parte di gestione locale del traffico reportistica i tool di engagement quindi i vari tool per quanto riguarda l'autenticazione sui social piuttosto che le splash page il pushing di video e così via se vogliamo utilizzare la basic possiamo gestire gli access point direttamente dal gateway wireless controller dal gvc integrato dentro la macchina watch gratuito non costa nulla si collega l'assess point e l'assess point si può completamente configurare e gestire dall'interno del nostro firewall ma se vado ad abilitare il wifi cloud mi troverò 4 prodotti in più vale a dire la sicurezza WISP che serve a bloccare gli attacchi di main the middle wireless i tool di registrazione le pagine di captive l'autenticazione sui social e così via la business analytics quindi la tracciatura del transito di un particolare oggetto wifi anche se non è connesso al mio access point in certe aree quindi si possono fare degli analytics ad esempio all'interno di centri commerciali negozi aree pubbliche e così via e un managgiamente scalare perché sull'assess point gli access point via cloud possono essere gestiti quanti ne volete sulle macchine watchguard c'è un numero finito a seconda della potenza dell'apparato una parola sul WIPS per proteggere le reti pubbliche dagli attacchi main in the middle che sono molto facili molto poco costosi e molto pericolosi watchguard utilizza una tecnologia la quale manda dei pacchetti di controllo sia su rete wired sia su rete wireless in questa maniera se il pacchetto in qualche maniera non torna con la firma di partenza vuol dire che all'interno della mia rete è stato inserito ad esempio un ROG IP oppure un ROG client a questo punto io posso capire dov'è e andare a intervenire perché ho la possibilità di buttarlo immediatamente fuori rete tramite il blocco del suo MAC address utilizzare il WIPS si può fare anche su una rete wireless già esistente quindi se avete un cliente che ha già una rete wireless potete inserire degli access point watchguard i quali scambieranno tra loro i pacchetti WIPS e faranno da sensore con il Wi-Fi Cloud potete poi espandere la user experience quindi l'autenticazione sul portale eccetera eccetera grazie anche all'integrazione con tutta una serie di motori già preesistenti come lo stesso abilitare l'analytics quindi all'interno di una certa area commerciale o pubblica andare a capire gli spostamenti ripeto senza bisogno di avere il client collegato al mio access point ma si fa tramite i broadcast del MAC address quindi io posso sapere chi è dove in quale postazione in quale posto quante volte è tornato in un certo negozio e così via bene terminata la parte tecnologica passiamo invece alla parte diciamo più istituzionale parlandovi dei nostri programmi di partnership e del supporto che diamo al canale innanzitutto chi si registra nel sito di Watcher come reseller gli verrà data la possibilità di entrare nella partner area dentro la partner area ci sono diverse sezioni molto interessanti velocemente vi do un'idea di almeno cosa potete trovare nella partner area ci sono diverse area vi dicevo nella parte di prodotto tutto quello che riguarda il prodotto quindi la possibilità di chiedere macchine in valutazione la possibilità di chiedere macchine not for sales i nomi delle macchine i loro codici informazioni su Landon Life nella parte di tools avete tutti quelli che sono tools da punto di vista marketing quindi tutto quello che vi serve da punto di vista marketing campagne già pronte email già pronte poster piuttosto che banner piuttosto che le immagini eccetera 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 la parte di training ci si può accedere sia di qua sia dal nuovo portale di learning che vi descriverò dopo la parte di risorse vengono a esserci tutto quello che è di utile al dealer per sviluppare il business con Washington quindi vengono dati i leads in questo posto si possono richiedere le registrazioni dei deal si può usare il renewal watch per creare delle quote delle offerte di rinnovo dei servizi slegati dai rinnovi standard quindi ad esempio per allineamenti di servizi in diverse parti dell'anno l'ultimo è la parte di programmi che spiega come funziona il nostro programma watch car one come funziona il programma mssp come si accedono i fondi marketing come funziona il security pay eccetera eccetera e ultimo il supporto tecnico molto molto importante supporto tecnico ci si arriva tramite il support center e tramite il support center avete tutta una serie di informazioni legate al prodotto quindi legate a come gestire il prodotto come gestire le varie funzionalità esterne ad esempio il TDR il wifi cloud la possibilità di accedere ai forum il supporto tecnico quindi la possibilità di accedere dei ticket e accendendo i ticket entrare direttamente in contatto con il nostro supporto è stato introdotto un portale nuovo che si chiama learning center il quale va a condensare tutte quelle che siano le informazioni e le necessità per fare il training quindi potete trovare sia il training commerciale che il training tecnico potete andare a prenotarvi gli esami potete seguire i video le presentazioni per le varie manuali e così via e vedere anche il calendario dei corsi presso i nostri watchcast certified training partners in Italia ne abbiamo credo 5 se non sbaglio i quali erogano corsi direttamente in aula ovviamente in lingua italiana quindi si semplificano un po' le cose c'è anche la parte di presentazioni commerciali e i webinar commerciali obbligatori che il commerciale deve vedere per il mantenimento per l'azienda del livello watchguard 1 i commerciali non hanno esami a differenza dei tecnici ma devono di tanto in tanto andare a vedersi dei webinar obbligatori programma watchguard 1 ve l'ho accennato prima che cos'è il programma watchguard 1 è il nostro programma di partnership watchguard il quale fa emergere i migliori reseller all'interno di un programma di fidelizzazione e di promozione della loro competenza non ci sono degli stringenti obiettivi di vendita non ci sono degli stringenti obiettivi di fatturato ma ci sono degli stringenti obiettivi di mantenimento delle certificazioni e dotazione di apparati test per fare delle demo ai clienti e così via tre livelli abbiamo dotato uno standard industriale silver gold platinum sono tutti uguali quindi sono sempre questi il silver e il livello di base viene richiesto un tecnico che abbia passato l'esame essential che è l'esame di base un commerciale che abbia visto un webinar e essere dotato di un'unità not for sale da REC a partire dall'M200 viene dato uno sconto in acquisto direttamente in distribuzione del 5% e gli incentivi gli spiff commerciali tramite security pay che vi dirò al termine il gold si raddoppia tutto due tecnici due commerciali due unità NFR ma i tecnici devono essere certificati anche con l'esame competency che è un esame più avanzato hanno diritto un extra sconto del 10% un rebate su volumi aggiuntivo quindi al superare di 40.000 euro al trimestre hanno un top in più circa un 5% hanno dei fondi marketing riservati che qua non sono stati segnati e incentivi tramite di nuovo il security pay direttamente i commerciali l'ultimo è il platinum il platinum si triplica tutto ma ha un feed ingresso vale a dire deve aver superato un volume di almeno 100.000 euro al trimestre anche lui viene dato un extra sconto del 10% soglia di 40.000 euro al trimestre per un extra 5% fondi marketing del 2% una persona tecnica di supporto dedicata con un numero telefonico privato e incentivi anche lui con il security pay che cos'è il security pay il security pay è un incentivo dato direttamente ai commerciali i quali si registrano sul portale di WatchGuard una volta che si sono registrati gli viene fornita devono mandare delle informazioni per evidenziare che loro sono dipendenti di uno stop nel WatchGuard 1 gli viene mandata una carta di debito vuota man mano che vanno a vendere dei prodotti tornano sul portale in questo momento integrato all'interno del nostro panel portal e vanno a inserire i vari prodotti che hanno venduto e automaticamente gli viene accreditata nella carta del denaro che vanno da qualche decina di euro per le macchine più piccole ma qualche centina di euro per le macchine più grandi a quel punto è una carta di debito a tutti gli effetti può prelevare il denaro da un banco ma piuttosto che spenderlo come crede come diventare partner WatchGuard 1 innanzitutto bisogna andare nel nostro portale WatchGuard e andare a registrarsi come partner di canale richiedendo di voler vendere i prodotti WatchGuard 1 e andando a mettere le proprie informazioni verrete ricontattati da un nostro funzionario commerciale locale per maggiori dettagli il portale partner di un partner WatchGuard 1 si espande si espande perché ha poi una serie di informazioni in più lo stato delle certificazioni qual è il suo livello attuale vede il suo fatturato in temporale i prodotti che ha venduto i prodotti che ha installato dai clienti che sono pronti per essere rinnovati la gestione dei suoi lead e la gestione diretta dei fondi marketing tramite il fan management tool quindi vede quanti dollari marketing ha a disposizione e può direttamente fare delle attività uploadare i contenuti fatti le prove dell'esecuzione dell'evento e gli vengono direttamente pagati un partner WatchGuard 1 poi ha una opportunità enorme a sua disposizione che è diventare un partner MSSP vale a dire invece di vendere macchine e servizi comprandoli da listino e rivendendoli con il suo ricarico ha la possibilità invece di venderli in modalità capex cioè comprerà da WatchGuard le macchine pulite crude senza niente completamente vergini comprerà da WatchGuard un monte punti tipo una ricaricabile di un cellulare e assegnerà questi punti ai vari firewall man mano che li accenderà da remoto tramite un programma tramite un portale che si chiama MSSP le macchine cominceranno a mangiare questi punti quindi io posso mettere in pausa la macchina accenderla spegnerla affittarla e abilitare il bundle di servizi che mi interessa diventare un partner MSSP è molto interessante perché consente di avere un fatturato ricorrente di non essere più legato a un magazzino di non essere più legato a dei prodotti ma è la pura vendita di un servizio se la cosa vi interessa andate a vedere il nostro sito watchcar.com slash MSSP bene concludiamo questa parte parlando del listino delle promozioni attive in Q2 vi ho detto prima che le macchine vengono fornite in due modalità una modalità che è la modalità Total Security o Basic Security e una modalità che può avere solo il supporto quindi nel caso volete la macchina con i servizi potete comprare e fornire la macchina in ambito di Total Security un anno o tre anni o Basic Security un anno o tre anni le macchine possono essere anche comprate senza servizi quindi unicamente con il supporto tecnico quando ad esempio devo usarla come una seconda macchina o per esigenze specifiche tenete conto che se comprate una macchina e ne volete un'altra per attivare l'alta affidabilità esistono dei codici particolari vedete al fondo della pagina dove in maniera molto estesa vi viene dato un fortissimo sconto per l'acquisto della seconda macchina da accoppiare alla prima la seconda macchina sarà passiva la prima attiva e quindi si avrà un cluster attivo o passivo nel caso di morte della prima macchina o di irraggiungibilità della prima macchina la seconda ne prende ne prende il posto acquisirà i servizi e partirà al posto di quella che è venuta a mancare l'alta affidabilità può essere anche fatta in attivo attivo quindi io metto due macchine identiche con lo stesso livello di servizi in parallelo le macchine funzionano in tandem raddoppiano le prestazioni nel caso una delle due morisse l'altra è già attiva e quindi in quel caso non ho sconti per la seconda macchina perché i servizi sono sempre attivi su tutte e due le macchine come si rinnovano poi le macchine possono essere in maniera molto semplice rinnovata con i bundle quindi con le suite scusatemi la total security suite e la basic security suite che rinnovano tutti i servizi insieme posso passare da una all'altra quindi fare un upgrade o un downgrade come notate il costo di una total security costa come comprare tre servizi quindi a questo punto se ho la maintenance e due servizi mi costa come la total security tanto vale che mi vado direttamente a rinnovare tutti i servizi anche nel caso non li usassi magari comincerò a usarli e li apprezzerò e in futuro continuerò a usarli quali promozioni abbiamo attive in Q2 abbiamo innanzitutto la prima promozione che forniamo all'M300 al costo dell'M200 quindi se acquistate un M300 con uno tre anni di total security lo pagherete esattamente lo stesso costo dell'equivalente macchina M200 inclusi i modelli trade up e trade in che sono i modelli utilizzati per la stituzione di macchine watchguard o per la stituzione di macchine di competitor nota che poi il futuro rinnovo sarà quello dell'M300 ovviamente però alla partenza per uno o tre anni avrete un ammortamento veramente interessante alta affidabilità le macchine direct M300 400 e 500 50% di sconto quindi on top allo sconto già dato per la macchina H ancora c'è un ulteriore 50% quindi non dico che viene regalata ma quasi ci manca insomma veramente un'offerta molto importante per aggiungere una seconda macchina a un cliente che già possegga una macchina M300 400 o 500 non si può comprare insieme a un'altra macchina quindi non potete comprare una macchina questa e aggiungere la promo la promo è solo per il parco installato gli access point watchguard non in versione cloud vengono offerti con uno sconto aggiuntivo del 20% 10% in caso di trade up quindi se volete un access point da dare a qualche vostro cliente che ha già macchine watchguard e vuole vedere come funzionano gli access point watchguard è la cosa molto carina già gestirli dal watchguard dal wireless dal sistema di management scusatemi wireless inserito all'interno delle macchine watchguard che ha già ed è gratuito può benissimo aggiungersi l'assess point e da lì in poi utilizzarlo abbiamo poi una promo per spingere i clienti a fare un upgrade alla total security quindi se avete già un cliente con la basic security e volete passare alla total security avrete un 15% di sconto sulla quotazione oppure sulla licenza 1-3 anni l'importante è che è utilizzato poi su un cliente che ha già una basic security due offerte poi riservate ai partner che vogliono diventare watchguard one quindi un'offerta dove diamo 300 dollari di voucher per chi diventa partner watchguard one al fronte poi dell'acquisto di 3000 dollari in prodotti quindi un 10% di sconto detto così a soldoni poi per i tecnici che riescono a passare l'esame di certificazione viene fornito un T35 con tutti i servizi a 199 dollari come ringraziamento per aver passato l'esame la GOVEDU è la nostra promozione ricorrente ricorsiva nella quale diamo il 20% di sconto su tutto eccetto macchine trade up competitive trade in e HA quindi servizi piuttosto che macchine rinnovi a ambienti di tipo governativo educational pubblico quindi ospedali scuole università onlus istituzioni religiose forze armate pulizia eccetera 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 quindi c'è on top un 20% ultimo è sempre attivo security pay per i nostri panel watchguard 1 quindi tutti quelli che stanno vendendo prodotti watchguard si trovano poi a fine magari del trimestre un bel po' di soldini da spendere in quello che vogliono nella loro carta security pays quindi concludiamo qua parlando di quella che è la differenza di watchguard è sicuramente un prodotto di livello enterprise porta alle pmi quelle che siano le sicurezze che normalmente i servizi che normalmente si possono permettere unicamente le aziende di tipo enterprise semplici da installare configurare distribuire gestire centralmente performance utm al top visibilità delle minacce molto importante e lo vedrete nella demo perché non sapere cosa succede nella rete è molto molto grave a livello di security e a prova di futuro vi ho fatto vedere prima come le macchine sono assolutamente modulari quindi io posso andare a inserire o modificare gli aspetti interni vari engine della macchina in maniera molto semplice bene direi che a questo punto vi lascio i nostri riferimenti vi ringrazio per la participazione di questa prima parte del webinar scriveteci per qualsiasi domanda dubbio perplessità a italichiocciolawashgar.com ci potete anche raggiungere dal nostro numero verde 800 911 938 a questo punto partirà la parte di demo lasciamo 5 minuti di pausa in maniera che le persone che si vogliono agganciare tecniche ne abbiano il tempo se volete rimanere qua siete assolutamente benvenuti e vedrete la parte diciamo più tecnica faccio diventare un attimino gestore il Gianluca ecco fatto dovremmo avere Gianluca come organizzatore relatore buongiorno a tutti confermatemi solo che vedete correttamente il video e sentite correttamente l'audio sì Gianluca tutto ok se vuoi dare tre minuti di pausa così facciamo arrivare agli altri certo vorrei di cominciare prima di tutto mi associo ai ringraziamenti di Fabrizio per esservi collegati così numerosi e così numerosi averci dato modo di presentarvi le nostre le nostre novità le nostre soluzioni e ovviamente darci modo di diciamo così delineare con degli approfondimenti tecnici concetti che eventualmente sono già consolidati che però è sempre opportuno rinfrescare diciamo così ripresentarvi magari in maniera rivisitata e innovativa allora questa sezione del webinar abbiamo deciso di sperimentarla in maniera coordinata per darvi un più ampio ventaglio delle nostre soluzioni e parallelamente farvele visionare anche con con una dema appunto allora questo segmento del webinar si occuperà sostanzialmente di rinfrescare ripresentare di nuovamente le nostre metodologie di management dei prodotti quindi andremo a vedere sostanzialmente parleremo dei metodi di management stand alone dei metodi di management centralizzati che cosa serve per utilizzarli e perché comunque sempre di management si tratta ritaglieremo un'ultima parte su due servizi definibili diciamo così inseribili fra gli ultimi arrivi il cui la cui gestione la cui funzionalità va a essere implementata va a essere gestita direttamente dal nostro portale in cloud sto parlando della dns watch e del tdr ho voluto fare un focus giusto perché sono elementi molto importanti per il gdpr quindi essendo abbastanza prossima la diciamo così l'arrivo della famosa deadline andiamo a rinfrescare questi due punti punti ovviamente inclusi nella total security che divengono molto importanti ma partiamo con il nostro con la nostra componente tecnica ricordi in aggiunta anche per rispondere a una domanda che ho intravisto il webinar verrà anche questa componente verrà registrata verranno applaudate entrambe sul nostro canale youtube oltre che ovviamente arrivarvi sostanzialmente il link di visualizzazione nella mail di recap per i partecipanti parliamo della ma innanzitutto cominciando a parlare degli strumenti di management parliamo della web user interface un pochino di storia prima di accedere direttamente vedete ancora a video la schermata di accesso a breve ci interfacceremo ovviamente un pochino di storia nel senso che la web user interface è stata diciamo così per filosofia e scelte precedenti diciamo si è percorso un attimino il cammino contrario rispetto a quello che normalmente avviene quindi storicamente Watchcar come ben sapete utilizza ha utilizzato utilizza tuttora un software di management di cui parleremo a breve che è il Watchcar System Manager che tutti quanti noi conosciamo e inizialmente non diciamo così aveva deciso di non dare un eccessivo sviluppo all'interfaccia web dal punto di vista della disponibilità di configurazione ovviamente per le richieste di mercato diciamo così la sempre più presente necessità di lavorare in cloud l'interfaccia web e ovviamente sottolineo anche l'esplosione dei dispositivi mobile hanno portato sostanzialmente a sviluppare negli ultimi anni una interfaccia web che oggi diventa totalmente o quasi tolta qualche lievissima eccezione diventa assolutamente paritaria a quello che è il Watchcar System Manager quindi questo è un preambolo dovuto giusto per introdurre la funzionalità allora accedo direttamente cosa che viene diversificata negli altri metodi di management posso accedere direttamente come amministratore della macchina quindi prendere direttamente possesso e rendere assolutamente funzionali le mie varianti di configurazione accediamo questo è il layout dell'interfaccia web quindi andiamo a definirla andiamo a descriverla nei suoi nei suoi dettagli quindi è divisa come succede per tutte le interfacce web è divisa in settori all'interno dei quali troviamo dei sottomenu associati ovviamente al macrosettore che possiamo andare a configurare parlando di dashboard e di system status possiamo definirli come due livelli di real time monitor divisi su due segmenti nella parte di dashboard trovo qualche strumento sostanzialmente di real time monitor alcuni menu che sono poi similabili a elementi che troviamo già nella nostra piattaforma di logging e di reportistica come dimension vedete il layout sostanzialmente dell'executive dashboard è il medesimo per andare a enfatizzare i top client top destination le top application le top policy chiaramente la differenza è che qui non abbiamo un database alle spalle quindi non possiamo andare a scavare storicamente nel dettaglio specifico ma parliamo di di real time monitor la possibilità di consultare diciamo così determinati menu uguali anche al dimension come il far watch vedete la grafica quadrettoni che contraddistingue sulla grandezza del quadrettone l'enfatizzazione diciamo dell'elemento che sto analizzando per quanto riguarda le sorgenti le destinazioni le applicazioni le policy le interfacce in ingresso utilizzate il system status è una sorta di monitoring un po' più avanzato nel senso che ci consente di andare a curiosare fra elementi magari di caratura non quotidiana ma che ovviamente nella fase di debug ci possono o soprattutto collaborando con il supporto ci possono dare una grossa grossa mano per esempio non è ovviamente da tutti i giorni andare a curiosare sulla art table piuttosto che andare a estrapolare la la diagnostica ma comunque abbiamo anche in presenza dell'interfaccia web abbiamo questa ovviamente questa possibilità volevo sottolineare per quanto concerne l'interfaccia web e alcuni pregi diciamo una comparazione un'enfatizzazione della comparazione con il watch car system manager che porta diciamo così a far emergere alcuni pro e alcuni contro quindi a mio modesto parere sono soluzioni paritarie da questo punto di vista dal punto di vista della profondità di configurazione però ovviamente ci sono delle piccole sostanziali differenze che è opportuno sottolineare per esempio dato il protocollo data la grafica vi ricordo che l'interfaccia web è totalmente java flash free e responsive quindi mi permette l'accesso da tutti quanti gli strumenti che io ho oggi a disposizione e soprattutto la sua struttura mi permette di trarre visualizzazione per quanto riguarda una funzionalità che non è il cui management la cui visione non è presente non è fattibile usando il policy manager sto parlando del network discovery network discovery è una funzionalità presente nelle nostre sottoscrizioni commerciali basic security e total security e mi permette di tracciare uno scanning di rete quindi qua ne vediamo i risultati se vado invece a vedere la parte di management posso lanciare posso schedulare uno scanning di rete posso diciamo così lanciarlo sulle interfacce a me più congeniali e il risultato sarà quello di dopo tre fasi di scansione una che riguarda lo scoprire il nome dell'ostar l'altra che riguarda l'identificazione delle porte dei servizi TCP e del sistema operativo l'ultima la più lunga riguarda lo scoprire il servizio di P quindi dal punto di vista del risultato finale dopo aver lanciato la scansione quello che vado a vedere ovviamente nel mio piccolo laboratorio momentaneo ho lanciato una piccola scansione giusta e dimostrativa ho la possibilità di selezionare la network che voglio vedere andare a esplodere il risultato e quindi andare a raccogliere le informazioni inerenti al nome host l'indirizzo IP il MAC address i sistemi operativi e i servizi aperti quindi posso mappare una rete al fine di poi poter andare come strumenti utili a ricordare il dispositivo per un mapping successivo quindi renderlo stabile consolidato nella mia mappa piuttosto che di esso andarne a vedere i riferimenti del traffic monitor o del firewatch la lista dei dispositivi scoperti compare qui quindi ha una diversa visione ma magari una visibilità più semplificata anche il gateway wireless controller in questo momento non ce l'ho operativo nel mio nel mio ambiente ma anche il gateway wireless controller ha un qualcosetta in più rispetto alla normale fruire del watchcard system manager perché mi consente di integrare vista la disponibilità grafica dello strumento web user interface mi consente di avere un dettaglio delle reti scoperte dei rog ap della mappa di rete dei canali utilizzati graficamente molto molto più intuitivo molto più utile anche da un punto di vista di una di una vera e propria survey che io voglio andare a espletare in ambito magari di prevendita quindi è uno strumento che integra già diversi tool utili da sfruttare dal punto di vista del deployment della mia infrastruttura diciamo dovessimo enfatizzare ve lo dico giusto come dettaglio tecnico ancora una peculiarità che non è non ci è consentita oggi dal punto di vista della gestione della implementazione della web user interface è quella di andare a modificare o creare direttamente il cluster dall'interfaccia mi spiego meglio posso puntare via web user interface all'indirizzo univoco di un cluster quindi quell'indirizzo condivisibile delle due unità e apportare tutte le modifiche per quanto riguarda le policy quello che non posso fare è lanciare la creazione del cluster con il wizard che invece si contraddistingue nel vsm e non posso andare a modificare una volta che il cluster è avvenuto modificare i suoi settaggi i suoi dettagli posso però del cluster stesso andare a completare la configurazione che ovviamente si spiattellerà sulle due sulle due unità che lo che lo coinvolgono allora come potete ben intuire questo accesso alla web user interface è relativo sostanzialmente ad un accesso stand alone quindi sulla singola macchina grazie alle policy di firewall come sempre policy che riguardano il management del dispositivo ritoccando quella che è la web la watch car web UI e la policy che come vedete mi consente l'accesso all'elemento all'alias firebox dalle zone che vado a indicare quindi qualora mi servisse un accesso esterno posso andare a inserire in questa policy anche o il singolo indirizzo IP che mi identifica il singolo host che può accedere alla mia unità oppure molto più disgraziatamente lasciatemi in termine aprirlo a tutti gli indirizzi esterni inserendo l'alias in esterna oppure vincolarlo a non tutta la rete trusted e tutta la rete optional ma magari solo gli alias interni a cui voglio consentire il management posso avere una visione in modalità gestione centralizzata per quanto riguarda che sfrutti come layout l'interfaccia web quindi parlando di gestione centralizzata e parlando di interfaccia web il riferimento a questo connubio è dettato da avere la funzionalità di watchcard dimension allora che cos'è watchcard dimension in modalità dimension command quindi parliamo della sottoscrizione dimension command un piccolo refresh magari utile a tutti coloro che sono collegati al nostro webinar dimension è una nostra in generale quindi senza associarvi un nome specifico è la nostra istanza costituita da una macchina virtuale che mi permette di implementare due ruoli sull'unica istanza quindi non ho bisogno di mettere più istanze un'unica istanza dimension può fare chiamiamoli così due mestieri il primo mestiere viene identificato come dimension visibility quindi non è altro che la raccolta dei log e la produzione della reportistica per la macchina che ci associo sopra quindi dimension monitorerà quella macchina specifica grazie a un postgreSQL database ne acquisirà i log e mi darà modo di vederne dati e reportistica sul frangente di tempo che voglio andare a sottolineare quindi non faremo una demo di dimension invisibility ma banalmente andando a specificare un dettaglio temporale che implichi l'amplezza del database quindi da io posso andare a vedere il dettaglio di log di report inerente alla security inerente al solo traffico produrre schedulare all'incirca 70 report per dare modo ovviamente di vedere e quindi poter decidere come diceva Fabrizio nel frangente precedente non si ha la possibilità di prendere delle decisioni corrette se non si hanno degli strumenti che mi consentono di vedere quello che sto per andare ad implementare quindi dare dei motivi validi per cui andare a inserire un servizio piuttosto che aumentare la soglia di criticità di un altro e quant'altro proprio perché ho questo strumento che mi consente di farlo tornando al nostro focus dal punto di vista del management centralizzato se la parte di dimension visibility non richiede chiamiamola così alcuna sottoscrizione aggiuntiva perché è una funzionalità inclusa in tutte le nostre sottoscrizioni partendo dalla standard support quindi acquistando un dispositivo con la sola maintenance e arrivando alla total security in tutte e tre le modalità posso tranquillamente inserire perché è incluso in tutte e tre una integrazione una istanza di dimension uno o più o due parallele istanze di dimension per ogni apparato che mi consenteranno di raccogliere i log e mostrarmi e produrre anche report sul dettaglio richiesto il secondo ruolo di dimension viene definito dimension command ed è contraddistinto nell'overview generale alla comparizione diciamo così dell'OIS sulla casellina managed questa volta si parla di sottoscrizione cioè è una sottoscrizione che io devo andare a inserire come elemento aggiuntivo nella commercializzazione standard support e basic security perché non ce l'hanno già presente devo aggiungerla io validando per un anno o per tre anni come pacchetto iniziale mentre incluso dimension command è incluso nella total security di che cosa si tratta una macchina che viene dotata la cui feature key viene dotata di dimension command si rende gestibile in maniera centralizzata da un'istanza di dimension quindi dimension command è suggeribile averlo per eventualmente per due modalità magari un'azienda che ha una infrastruttura enterprise quindi un cliente watch car che ha per esempio una sede centrale e n sedi periferiche e decide o in autonomia o grazie a un nostro partner di gestire in maniera centralizzata tutti i suoi dispositivi facendoli anche poi collaborare fra loro come andremo a vedere con un'infrastruttura WPM oppure ovviamente il partner che fa business con watch car e decide di suggerire per diciamo così offrire dare come servizio aggiuntivo un offering più veloce più ottimizzato decide di andare a racchiudere a proporre in modalità centralizzata il management di tutti i dispositivi che ha proposto ai suoi utenti finali per avere ovviamente modo di raggiungerli quando e come vuole e quindi avere una pianificazione una facilità di intervento molto molto più esaustiva allora quello che fa che consente di fare dimension command è sostanzialmente selezionare la macchina di turno e non vedere già direttamente la dashboard esecutiva come succede con le macchine che non hanno che hanno solo la parte visibility ma poter avere una piattaforma per poter andare a lanciare delle operazioni dirette sulla macchina stessa fra cui ovviamente anche il management quindi aprendo la piattaforma sulla web user interface io non faccio altro che aprire direttamente una sessione di management sul dispositivo ovviamente non ho aperto nessun servizio da remoto non è che dal mio browser sto puntando all'IP pubblico come vedete ovviamente dall'URL di riferimento che è lo stesso da cui risiede dimension quindi non è una sezione diretta ma è un tunneling customizzato in HTTPS fra dimension e la macchina che voglio andare a gestire fra le facility che dimension command mi propone c'è anche la possibilità di avere tornando sulla nostra home un menu specifico che si chiama vpn sulla quale con tutte le macchine che hanno dimension command possa andare a implementare una struttura di vpn chiamata vpn hub and spoke quindi in buona sostanza delineano fra tutte le macchine che hanno dimension command un elemento come ad esempio il firebox di Seattle che viene denominato hub centro stella delineando i vari spoke come vedete qui sotto quindi francoforte chicago parigi montreal eccetera eccetera ovviamente che avranno nella loro infrastruttura un firebox nel deployment del wizard della mia vpn posso andare a incanalare le risorse che mi interessano facendole passare a direttamente dal centro stella quindi banalmente dovessi andare a raggiungere le risorse di montreal partendo da francoforte posso dire di non creare una vpn diretta ma passare dal centro stella che dovrà essere ovviamente strutturato a livello di capacità computazionale e quindi andare a condividere queste risorse perché gestirlo così? perché gestendolo come wizard grafico mi è molto più semplice andare a creare un'infrastruttura del genere anziché farla come configurazioni stand alone quindi andare a creare la mia fase 1 la mia fase 2 come il mio deployment delle risorse come ben sapete per coloro che tecnicamente hanno già realizzato una vpn quindi il management della macchina più la funzionalità della hub and spoke vpn è fruibile da dimension dall'istanza di dimension solo se la macchina monitorata di turno come in questo caso il nostro web demo è dotata di feature key dimension command per la parte di visibility dimension visibility quindi l'editing e il collezionamento dei log invece è una funzionalità fruibile da tutte le sottoscrizioni commerciali dei nostri prodotti allora terminata questa prima parte inerente alla presentazione scusate dei metodi di management via web quindi abbiamo parlato un pochino della web user interface chiaramente voleva essere un overview generale è chiaro che poi tutte le funzionalità tutto quello che posso fare le conoscete bene sono strumenti diciamo così già notti che magari riprenderemo anche nella seconda nel secondo metodo di management che è il watchcard system manager quindi vi dicevo abbiamo introdotto come vedere il management via web user interface e centralizzato parlando di management centralizzato sempre con layout via web user interface è chiaro che diviene indispensabile orientarsi su questa scelta quando soprattutto quando non voglio legare la manutenzione della macchina a un sistema operativo particolare quindi voglio essere libero di poterla gestire e raggiungere per comodità da tutte le piattaforme che ho in mano quindi dispositivi mobile tablet di tutti i tipi è chiaro poi ovviamente qui è un discorso fra tecnici è chiaro che poi l'abitudine e il come si sono acquisite inizialmente le informazioni poi fanno la differenza e dettano una scelta piuttosto che un'altra quindi ci dispensiamo dalla web user interface per andare a parlare del metodo storico di management dei nostri dispositivi ovvero chiudiamo anche questa parte ovvero parliamo del watch car system manager normalmente riconosciuto come WSM di che cosa si tratta è una suite software disponibile per tutti nella nostra area download quindi non è legata a sottoscrizioni particolari se non per una piccola precisazione che vedremo a breve ed è sostanzialmente lo strumento storico con cui watch car ha iniziato a predicare il proprio verbo nel mercato italiano quindi è sempre cresciuto si è sempre allineato versione su versione dandomi modo di poter sostanzialmente avere una visione grafica carina semplice intuitiva e poter andare ad agire in maniera consolidata sulle configurazioni dell'apparato allora andiamo un pochettino a sottolinearle dopo vedere un po' di overview a vedere un pochettino gli strumenti del WSM allora essendo una suite software si compone di diverse funzionalità di diversi strumenti ovviamente la differenza grossa sostanziale è che la web user interface è tutto da tutto fruibile all'interno di un'interfaccia qui ho tanti piccoli pezzi che si integrano perfettamente fra di loro e che ovviamente mi danno lo stesso risultato quindi come accesso iniziale alla configurazione io ho il la necessità l'obbligatorietà di agganciare il dispositivo quindi anche in questo caso vale il discorso che la policy discriminante del firewall mi consente di gestirlo dall'interno della rete oppure dall'esterno la prima sostanziale differenza è che è il metodo di ingresso abbiamo visto che nella web user interface io posso entrare direttamente come amministratore della macchina e poi posso fare tutte le mie modifiche e dare il save menu per menu in maniera specifica quindi andare a salvare ogni variante che faccio in maniera definitiva nel vsm invece la filosofia è diversa la filosofia è quella di accedere sempre e comunque alla macchina con uno strumento come una modalità di monitoring quindi un utente non autoritativo di default le classici livelli di accesso sono status con pass freeze read only per questo tipo di utente quindi il vsm accetta sempre unicamente come ingresso iniziale queste credenziali il primo strumento che mi consente di che si occupa e ha il compito di compilare la configurazione è il policy manager il policy manager quindi lo possiamo battezzare come l'editing l'editor di configurazione del nostro dispositivo ed è ovviamente integrato nel vsm allora qui sostanzialmente si va a dipingere tutto il set come layout iniziale vedo il set delle regole delle policy di firewall su cui ruota sostanzialmente tutto ruota la possibilità di montare i nostri motori utm grazie alle policy di tipo proxy quindi vi ricordo che oggi identifichiamo tutti i motori utm inclusi nella total security come application control apt blocker botnet detection incluso è un servizio sì ma incluso nel reputation enabled defense data loss prevention dns watch l'ultimo arrivato gate antivirus geolocation anch'esso incluso nella reputation enabled defense intrusion prevention mobile security non è propriamente un servizio è una funzionalità che mi permette di demandare a livello di licensing per numero di nodi l'accesso ai dispositivi mobile previo policy di riconoscimento del sistema operativo e quant'altro allora sì per quanto riguarda so che ho qualche piccolo problemino di banda so che utilizzando il WSM GoToMeeting qualche volta l'audio va e viene non vi preoccupate perché tanto è registrato e quindi sarà poi tutto visibile in un secondo momento senza problemi allora dicevo quindi tutta la parte dei nostri motori UTM con il reputation dell'envol defense spam blocker thread detection e response e web blocker tutto quanto incluso nella total security allora il principio di fondo è quello che possa andare a ritoccare tutte le policy tutto tutto quello che è il fruire del mio traffico discriminando sorgente destinazione inserendo l'autenticazione andando a lavorare con database esterni di integrazione quindi pfmd e mezzo per la parte di autenticazione gli utenti di firebox il radius la secure id quindi con il token le lead up la tip directory insomma discriminando la mia policy rendendola più o meno specifica per profilazione soggetta a interfacce a utenti a gruppi di utenti toccando la parte di networking ovviamente tutte queste cose sono fattibili anche nella web user interface quindi toccando la parte di networking inserendo interfacce fisiche interfacce logiche creando vpn editando il cluster che necessita del usm per la creazione iniziale perché come vi dicevo prima via web non è possibile andare a implementare un'infrastruttura di cluster o comunque modificare i settaggi del cluster una volta che io ho compilato il mio file di configurazione non l'ho scritto direttamente sulla macchina fino a che non utilizzo il tool save to firebox quindi quando non fino a che non vado a scrivere definitivamente tutte le varianti scritte sulla sulla macchina il save to firebox come vedete mi chiede l'utente amministrativo quindi di default admin read write e il secondo livello di utente fruibile per quanto riguarda il vsm che vsm richiede la mandatorietà di utilizzarli entrambi il primo l'utente di status per l'ingresso sulla macchina e il secondo per la conferma di tutte le operazioni di scrittura che faccio sulla macchina stessa quindi parlando di editing di configurazione il policy manager è elemento fondamentale mi consente di fare tutto quello che posso fare sul dispositivo per la parte di networking di servizio tm di creazione delle regole e tutto quello vpn quello che ne consegue per la parte di real time monitor e di debug quindi quando devo andare a risolvere le problematiche uno strumento storico importantissimo e molto utilizzato è il firebox system manager quindi non parlo più di editing di configurazione ma parlo di andare a vedere avere uno strumento che mi dia un dettaglio real time su quello che sta succedendo in termini di traffico in termini di manutenzione sul mio sistema quindi il firebox system manager diventa importantissimo per questo è presente nel layout iniziale anche della web user interface ma alcuni tool sono fruibili unicamente se utilizzo il vsm per esempio il front panel mi dà una visione generica del dispositivo la cosa più importante è il traffic monitor che mi consente di identificare di vedere tutti i log tutto il traffico che passa all'interno del mio firebox quale policy match e della policy specifica se si tratta di una regola di tipo proxy quindi una regola che guarda non solo leader del pacchetto ma anche il payload andare a vedere oltre che il dettaglio come vedete qui colorato la parte di leader quindi sorgente destinazione porta e regola matchata ma soprattutto è importante la parte bianca la parte bianca che vedete in queste stringhe di log che identifica le componenti decisionali del payload della mia regola proxy quindi posso andare a sostanzialmente a trarre delle informazioni su chi è intervenuto per droppare quel tipo di pacchetto e quindi validare ovviamente l'efficacia delle mie policy altre realtà real time molto utili sono il bando emitter con il monitoring della banda presente sulle mie interfacce fisiciologiche il service watch che fa la stessa cosa non per scusate per interfaccia ma per servizio quindi monitora l'andamento di banda all'interno delle delle varie policy con la possibilità di andare a implementare quali policy voglio mostrare quali voglio nascondere per ovviamente questo ovviamente anche sull'interfacce per avere un overview più pulita lo status report è un timestamp disponibile che mi mostra utile soprattutto per il supporto che mi dà modo di avere uno stato dei tutti demon del sistema e tutti gli altri strumenti come l'authentication list il block sites un overview sulle sottoscrizioni il wireless control il traffic management e lo user quota come monitoring delle funzionalità che voglio andare a che voglio andare a verificare system manager ha una componente di gestione centralizzata all'interno della sua suite software quindi quando lo scaricate il WSM all'atto dell'installazione vi dà modo di selezionare di installare una componente all'interno del vostro networking quindi è un altro pezzo di codice separato che si chiama manager management server il management server è uno strumento che vi consente di gestire in maniera centralizzata i dispositivi di watchcard ma in maniera differente dal watchcard dal dimension command lo fa con il layout del WSM in buona sostanza io lancio la mia console che è la stessa è sempre watchcard system manager non su un dispositivo come ho fatto in precedenza ma la lancio verso un indirizzo dove di una macchina dove è installato il management server che potrebbe essere pubblico potrebbe essere all'interno della mia infrastruttura potrebbe essere raggiungibile da una WPM questo è il layout del management server quindi qui vedo tutti i dispositivi in gestione al management server dal punto di vista del licensing è una funzionalità che richiede una licenza una tantum vale a dire non è legata a annualità annualità o triennalità quindi non va rinnovata va acquistata una volta ma vi consente di monitorare n nodi contemporanei quattro nodi sono fruibili da tutti quanti pronti via da tutti quanti Firebox quindi la licenza quattro nodi è tranquillamente fruibile per tutti le sottoscrizioni aggiuntive i nodi aggiuntivi vanno integrati con un licensing separato quindi va acquisito un licensing che sblocca il numero di nodi contemporanei all'interno del dispositivo del server installato cosa mi consente di fare il il management server ho la possibilità di ovviamente di avere tutti gli strumenti specifici che ho visto prima quindi il policy manager il firebox system manager gestibili singolarmente per ogni nodo che sto monitorando dal punto di vista però della collaborazione fra nodo e nodo il vsm ha qualche utility in più per esempio la drag and drop vpn cioè io ho trascinato semplicemente il dispositivo chiamato gruppo 5 sul gruppo 6 e do in là alla creazione di una vpn cosiddetta chiamata drag and drop dove con un banalissimo wizard di 4-5 step vado a creare semplicemente col trascinamento una vpn né più né meno fra ovviamente fra i due dispositivi watchcard quindi questo semplificherebbe la creazione di un'infrastruttura mesh quindi dove magari le diverse sedi devono parlare con tutte le diverse sedi diverrebbe molto incasinato andare a identificare fase 1 fase 2 creare le manualmente insomma anziché semplicemente qui trascinare il nodo x verso il nodo y fra i quali voglio ovviamente andare a realizzare un tunnel vpn posso lavorare con dei template di configurazione dei template che identifichino il set di regole quindi costruire un nuovo template da modo di andare a personalizzare la fantasia nella creazione dei file come potete vedere ma andare a personalizzare il set delle mie policy e usarlo come modello sostanzialmente qui inserire tutte le policy del firebox una volta creato poi quello che potrò fare è semplicemente andare a trascinare il mio template verso o il singolo dispositivo a cui mi interessa aggiornare o allineare le policy oppure verso un gruppo perché posso racchiudere magari per tipologia di operatività piuttosto che per locazione geografica posso racchiudere ienne firebox su gruppi di gestione diversa quindi trascinando il template di configurazione sul singolo elemento sul singolo gruppo applicherò quel template al singolo elemento al singolo gruppo sui dispositivi poi posso andare a implementare anche delle azioni schedulate come ad esempio l'aggiornamento del sistema operativo la sincronizzazione della feature key oppure schedulare direttamente un reboot all'arrivo del timing della schedulazione partirà un comando dal management server che darà modo di lanciare quindi la schedulazione sull'apparato non l'ho detto prima ritorno un secondo al watch car system manager il vsm come vedete come strumento ora non sono connessa nulla quindi né dispositivi né server di management ma se clicco direttamente sul policy manager ho modo di creare un file di configurazione offline oppure andando a modificare uno precedente quindi all'atto di crearne uno nuovo magari sto andando da un cliente sono sul treno e voglio cominciare a prepararmi la parte di networking ovviamente l'unica cosa che mancherà sarà la feature key che è legata strettamente al dispositivo registrato ma se voglio preparare clicco su create new file gli do una valenza per quanto riguarda il prodotto a cui sarà adattato perché ovviamente le cose il fulcro fondamentale sono il numero di interfacce fisiche che ogni dispositivo ha quindi seleziono il modello che mi interessa per esempio che non so un 370 stabilisco la release di firmware per le funzionalità alle quali si deve allineare gli do un nome e partirà la modellizzazione del mio file quindi con il set di regole generali ovviamente che non includono i motori tm ma dandomi modo di ritoccare tutte le funzionalità editabili come aveva detto Fabrizio nella frangente precedente i nostri file di configurazione sono perfettamente estrapolabili da qualsiasi modello e adattabili a qualsiasi modello diverso senza battere ciglio quindi senza nessuna difficoltà facilitando drasticamente le opere di migrazione degli apparati allora ricapitoliamo quindi abbiamo visto ci siamo interessati del management stand alone via web user interface del management stand alone via WSM e dei corrispettivi metodi di management centralizzati dimension command per la web user interface e il management server per quanto riguarda il WSM la chiusura la volevo fare su due funzionalità la cui gestione specifica non è come siamo abituati a vedere diciamo ad essere utilizzata non è fattibile direttamente dal dalla configurazione del dispositivo quindi non la troviamo direttamente in un editor di file di configurazione ma impartiamo degli ordini dalla nostra area cloud avendo accesso al partner portal quindi alla vostra area riservata nella sezione del supporto tecnico troverete per quanto riguarda la security specificatamente due tool di management uno che riguarda il DNS watch e l'altro che riguarda il TDR allora partendo dal TDR quindi il threat detection e response vi ricordo che cos'è è una soluzione sostanzialmente inclusa nella total security un motore UTM incluso nella total security che dà modo di avere una collaborazione vado a pescare una slide esemplificativa per darvi modo di allora solo un secondo ecco il TDR sostanzialmente è un meccanismo che prevede all'interno della vostra rete due sensori il network sensor che è il firebox e l'host sensor che sono i dispositivi che sono i non i dispositivi scusate sono i pezzi di codice nodi host sensor ogni total security ha incluso un certo numero di no host sensor correlati a quello che è il dimensionamento più o meno a grandi linee della macchina dove però ovviamente posso ampliare il numero dei nodi host aggiungendone di più se ovviamente la rete è più ritta allora host sensor e network sensor dialogano mandando i dati trovati alla thread sync che è l'elemento cloud che raccoglie e valuta tutte le attività dei due sensori quindi il network sensor sul firewall non è un motore in più sul firewall ma è semplicemente il fatto che attivando il tdr sul firebox io demando tutte le attività notificate dall'apt blocker dal reputation enable defense dall'antivirus dal packet filter dal web blocker tutti gli elementi negativi li mando come informazione aggiuntiva alla thread sync l'host sensor invece fa il pezzo di codice quindi che installo sul client valuta i file presenti sulla macchina dal punto di vista se essi creano cancellano il file se creano cancellano chiavi di registro o se creano o cancellano processi di sistema questi eventi sulla macchina generano una valutazione da fare sull'evento stesso che una volta fatta attribuita a un punteggio da 1 a 10 viene denominata indicator l'host sensor poi ha lo scopo di correggere gli indicator o in maniera manuale quindi dalla console che vi farò vedere a breve oppure dalle policy automatizzate la cosa importante è che collaborando fra di loro network sensor e host sensor quindi mandando i loro dettagli delle schifezze trovate alla thread sync per quanto riguarda il network che andrò a procedere la thread sync farà l'opera di correlazione degli eventi quindi unificherà i log in back end andando a individuare che un elemento negativo è stato magari tracciato dal network sensor e da 5 6 7 host sensor quindi facilitandomi poi la parte di individuazione quindi questo era sostanzialmente lo schema blocchi andiamo a vedere la console di configurazione del DDR quindi eccola qua una volta che io selezionerò dalla modalità provider l'elemento che voglio andare a monitorare quindi questo è il mio laboratorio dove sto monitorando i 7 nodi o sensor che ho deployato in questo momento operativo ce n'è uno solo come vedete ho nell'ultimo mese ho trovato 34 indicator quindi sono eventi che sono stati valutati con un giudizio 3 dal sistema TDR dal mio sensor qualora volessi avere informazioni in più mi basta selezionarne uno andare ad additional info vedere quale componente l'ha individuato in questo caso come vedete l'analisi euristica comportamentale ad aver riattribuito uno score 3 che ovviamente è uno score di avviso sostanzialmente quasi di di valutazione non è non è una minaccia effettiva ma semplicemente mi sta dicendo sul dettaglio le motivazioni per cui è stato considerato sospetto quindi ricorrere nella cartella temporanea che normalmente non è non è una cosa contemplata allora una volta che ho individuato ovviamente tutti gli elementi posso andare a decidere se selezionando gli indicator che mi interessa gestire andare a intraprendere un'azione manuale quindi seleziono gli indicator come action lancio se conosco il file o il processo lo metto in white list se è negativo lo chiudo lo killo quindi darò un'istruzione allo sensor di uccisione piuttosto che messa in quarantena piuttosto che mandarlo nella sandbox dell'apt blocker per crescere la sua il suo livello di valutazione questo è l'intervento manuale sugli indicator l'intervento automatico avviene con le policy quindi le policy andiamone a prendere una per esempio determinano che io vada da direttamente sugli indicator che hanno ricevuto punteggio da 8 a 10 come? performando che cosa? l'uccisione del processo la messa in quarantena e la cancellazione del registro unicamente in maniera automatica se gli indicator che mi stanno arrivando sono su questa soglia ovviamente posso perpetrare posso configurare la mia policy a piacimento posso produrre e schedulare l'invio di report quindi andare a vedere per esempio giusto banalmente un format di un report giusto per farvelo vedere per dare un'integrazione grazie al tool e di helper con l'attività rectorie per facilitare il deployment degli o sensor o sensor che invece stand alone posso scaricare direttamente da qui disponibili su questi sistemi operativi e installarli direttamente sulla macchina come se fosse un normale eseguibile quando lo sensor avrà un R-bit con l'ambiente cloud lo vedrò indicato direttamente qui lost ransomware prevention è una componente dello sensor che può lavorare anche offline ovviamente ha bisogno di aggiornamenti ma lavora per quello che conosce offline cosa vuol dire se non c'è l'arbit direttamente con il cloud funziona lo stesso contiene una libreria nota dei ransomware del comportamento di cifratura dell'algoritmo di cifratura dei ransomware altresì anche le loro estensioni dei file prodotti per una comparazione nel momento in cui avviene un processo di cifratura di un ransomware e quindi si va a impedire la cifratura dei file come risultato finale del processo del ransomware stesso quindi combatto i ransomware da questo punto di vista grazie a questo a questo motore a questa componente specifica l'altro elemento l'altra funzionalità qui andiamo a chiudere editabile gestibile via mondo cloud è sempre raggiungibile dal support center è il dns watch allora che cos'è il dns watch lato firebox io attivo il avendo una total security attivo il dns watch semplicemente con un banale flag e definendo se voglio forzare il dns watch in maniera autoritativa oppure non lo voglio forzare e dovrò andare io a determinare gli indirizzi del dns resolver dal mio servizio di dns watch direttamente lato client quindi il client di riferimento farà le sue query dns direttamente al dns specifico altrimenti cosa più consigliata faccio già fare questo enforcement della funzionalità dns watch direttamente al file che cos'è il dns watch è sostanzialmente un elemento che si compone di un dns resolver che prenderà in carico tutte le query dns fatte che transitano attraverso il firewall fatte dai client o dai server interni su tutti i protocolli quindi non parliamo solo di http mirate a validare se il dominio di destinazione è un dominio malevolo quindi già riconosciuto dal sistema già segnalato oppure no quindi non aspetto di arrivare ad avere l'analisi sull'http e sul suo payload ma agisco molto prima in maniera quindi più snella direttamente sulla query dns con capacità di calcolo computazionale impegnata ovviamente inferiore quindi una volta che lato firebox ho attivato il sistema con quel semplice flag e deciso se forzare il servizio oppure farlo lavorare in maniera manuale configurando il resolver che otterrò dopo registrazione sul firebox lato console io non faccio altro che andare a dettare magari delle delle policy oppure poter estrapolare dei report quindi la dashboard iniziale mi dà un report specifico nelle query dns delle ultime 24 ore questo ovviamente è il mix di tutti i firebox con dns watch accessibili nel mio portale o ovviamente quando lo attiverete voi nel vostro portale la parte di settaggio mi dà modo di andare a vedere ad esempio sotto protected firebox tutti i firebox su cui potete andare ad attivare il servizio ovviamente questo portale lato nostro è il portale watch car sud europa quindi tutti gli impiegati di watch car sud europa sono referenziati qui come tutti i nostri sales engineer quindi questo ad esempio è il firebox da cui vi sto facendo il webinar che ha il servizio attivo quindi questo è l'ip pubblico della mia linea e mi dice che sostanzialmente è registrato cosa succede? allora per coloro che effettueranno una query risultata malevola apparirà una pagina di di notifica pagina di notifica che oltre a contemplare un messaggio che potete editare direttamente di qui farà apparire un video utilissimo anche dal punto di vista del GDPR perché è un video formativo sulle best practice da adottare contro il phishing quindi siccome quello che vogliamo andare a curare sostanzialmente come male è il phishing quindi tutti coloro che cliccano tra virgolette dappertutto quindi danno origine a delle query DNS direttamente malevole eventualmente ho la possibilità nel cosiddetto black hole ovvero quella pagina che verrà di fronte all'hand user l'utilizzatore del pc che si è imbattuto in una query che è risultata malevola quindi vedrò questo messaggio e avrò la possibilità di vedere questo video formativo posso customizzare lo stile della pagina di black hole con il logo eccetera eccetera andare a lavorare sulle black list quindi sulle black hole site quindi andare a definire sostanzialmente i servizi che voglio andare a io che voglio andare a a segnalare come domini da bloccare piuttosto che le white list la cosa importante sarà questa sempre sotto setting sotto domain sharing posso dire se scegliere se decidere al team direttamente se aggiungere manualmente i domini messi come black list condividerli con tutti gli altri utilizzatori del sistema dns watch quindi in buona sostanza l'idea è questa a seconda della scelta che faccio qua dire bene caro dns caro servizio watchcard dns watch io ti segnalo un dominio secondo me è malevolo lascio a te il tempo tecnico di condividerlo di valutarlo ed eventualmente di condividerlo di sharearlo nel tuo database globale oppure lo faccio io manualmente stand alone quindi non non te lo metto in condivisione ma è proprio del mio del mio account unicamente nella parte di settaggio poi sotto domain feeds ho la possibilità di vedere tutti i resolver utilizzati delle minacce segnalate via domain name se qualcuno non dovesse piacermi o in fase di debug dovesse essere utile ovviamente ogni segnalazione negativa genererà un alert anche dal punto di vista della compliance gdpr e potrò ovviamente anche andare a generare dei report specifici vi ricordo il servizio è incluso nella total security o a breve sarà acquistabile anche separatamente ecco qui chiudiamo sostanzialmente il nostro webinar quindi vi ricordo l'azione sarà disponibile a breve sul nostro canale youtube watch car italia vi arriverà ovviamente anche una mail con l'accesso alla registrazione stessa per coloro che hanno partecipato e niente vi auguro vista l'ora vi auguro buon appetito e vi do appuntamento alla nostra prossima edizione dei nostri webinar grazie mille e buona giornata a tutti grazie a tutti